Ben trovati con lo spazio a cura di meteocalabria.net. Ad un martedì di bel tempo potrebbe seguire locale variabilità nel corso della giornata di mercoledì. Martedì 21. In genere sereno salvo un po' di nuvolosità sull'Ionic e sull'Aspromonte ma senza fenomeni di rilievo. Venti deboli da nord ovest su Tireno, di direzione variabile sull'Ionio, ma Tireno mosso poco mosso l'Ionio, temperature stazionarie di poco oltre alle medie nei valori diurni. Qualche precipitazione sarà possibile nel corso della giornata di mercoledì 22 settembre, più probabile sul medio basso Ionio e sul Regino di Ponente. Probabilmente stabile altrove. Temperature in lieve calo. Grazie per l'attenzione. Appuntamento al prossimo aggiornamento.